facciamo anche video e poi mettiamo l'altro sketch messo vicino che si è finita la memoria allora oggi ne abbiamo 9 ottobre 2019 esattamente 2 14 e 20 e facciamo un sketch di video che poi lo mettiamo su facebook sono due sono tre sono quattro sono cinque tutti i bei anima lozzi questi sono e la mia montatura da pesca per i polipi 15 sono 6 17 sono ancora vive sono 8 amici guardate questo sarà un 3 kg sono 9 sono 9 sono 10 sono 11 questo è un altro animale sono 12 sono ancora vive 12 sono 13 questo è un altro bello polpa sono 14 15 15 sono 16 sono 17 sono 18 sono 19 sono 20 21 21 questo sta andando a casa se ne stava andando 21 ragazzi ma ce ne stanno 3 4 che fanno paura è una bella pescata vi lascio una buona giornata la prossima pescata ciao